eccoci qua quindi una volta cucite pannelli loro prendono la curvatura classica dei pannelli perché appunto forzati di prua con la concavità esterna cioè verso l'esterno quindi se noi mettiamo su un piano si vede subito che fanno questa fuga però se noi a questo punto si schiacciano i pannelli verso l'interno subito praticamente si vede che la punta si alza infatti dal disegno i pannelli non sono verso l'esterno ma sono schiacciati verso l'interno in questa maniera qua per dare più rocker alla prua così e in questo modo si evita si alza addirittura la prua bisognerebbe trovare sistema per riuscire a sformarli senza tanta fatica attore tutto a te ciao